Miriam Leone, il suo outfit Total Red firmato Gucci conquista il web Dopo il lancio della nuova collaborazione con Gucci per la campagna pubblicitaria Roman Rhapsody, Miriam Leone è tornata alla ribalta sul Red Carpet della moda, durante la Milano Fashion Week Lattrice ha sfoggiato un bellissimo abito di Gucci Rossofuoco e si è fatta immortalare dai fotografi e dalla stampa, in occasione della serata di Vogue Italia. La sua bellezza e il suo stile hanno stregato il pubblico presente, ma anche i fan su Instagram, la foto pubblicata sul suo profilo ha raggiunto infatti oltre 14 mila like e centinaia di commenti, in poche ore. La serata The New Beginning è stata unesplosione di stile e sensualità, oltre a Miriam Leone erano presenti anche importanti top model del passato come Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Naomi Campbell, oltre a personaggi dello spettacolo italiano, quali Emma Marrone e Martina Colombari. Un abito di Gucci per Vogue, Miriam strega tutti. Miriam Leone è ormai diventata un'icona di stile, lo conferma la sua recente collaborazione con Gucci in qualità di testimoniale la sua presenza alla serata di Vogue. Per l'occasione l'attrice ha indossato un abito rosso fuoco, firmato sempre Gucci, lungo fino alle caviglie e con uno spacco che lasciava intravedere la coscia. Il vestito era a maniche lunghe e presentava un decoro nero e grigio sul fianco sinistro. Come una vera diva d'altri tempi, la Leone si è presentata sensuale ed elegante, senza essere eccessiva. I capelli rossi erano in tinta con l'abito e il suo airstile particolarmente elaborato l'ha fatta sembrare una vera trendsetter. La caption della foto è dedicata al nome della serata tenue beginning e la Leone ha commentato dicendo che un nuovo inizio andrebbe sempre celebrato. La star ha inoltre ringraziato Gucci per averle dato questa opportunità e il suo amato team di lavoro, con cui ha un rapporto bellissimo. Oltre all'hashtag Cancelletto Tenev Beginning, durante il party di Vogue è stato utilizzato anche Cancelletto e Avenisa Place On Earth proprio per definire la serata come un vero paradiso sulla Terra. Miriam Leone è sempre più trendsetter. Dalla fine dell'estate e del suo viaggio in Oriente, Miriam Leone si è concentrata molto sulle sue collaborazioni con il mondo della moda. Così il suo profilo Instagram è una vera galleria di outfit trendy, sponsorizzati da grandi brand internazionali, come Gucci. L'attrice ha sempre avuto un debole per la moda, ma in questo ultimo periodo, l'inizio di nuove partnership l'ha catapultata direttamente nell'Olimpo delle star del Fashion Assistant. Non è un caso infatti che sia stata scelta come testimonial da Gucci e che sia stata una delle star presenti durante il party di Vogue in occasione della Milano Fashion Week. Sul suo profilo Instagram, l'attrice ha pubblicato numerose foto mentre indossava abiti preziosi e unici, partendo dalla campagna pubblicitaria Roman Rhapsody in cui ha sfoggiato un total look Gucci, si passa all'evento presso il Gucci Hub per la Milano Fashion Week in cui ha sfoggiato un abito nero con una stampa a fantasia di farfalle. Qualche giorno dopo ha condiviso anche una foto della serata con di lunga set di Giorg, mentre indossava sempre un completo di Gucci con gonna azzurra e canotta nera, fino ad arrivare al fatidico party di Vogue. . .